Astre vuole il post basso contro Perez, non ha paura, si gira, tira, sbaglia, bellissima difesa di Perez se tira appunto in chat voglio anche la vostra sulla vincente, ecco il primo di due punti di Perez sono sforzionato in questo caso Perez guida la transizione, non difende benissimo Stella fallo di Lumena e basta, probabilmente mi avete già sentito per un po' di finali nazionali quest'anno sul canale di Talup, qua Perez intanto ne segna due dopo il recupero che lui è un po' freddo in questo inizio nonostante il canestro di prima Perez corre tantissimo, va dentro, fallo, canestro buono Perez ancora con la palla in mano, ancora attacca Granaia, ancora va dentro e segna Curbelo corre in contropiede Tomas, tocca di inizio, e allora può far partire il contropiede Perez Guarda il suo scelto Cosa ha fatto il numero 23? In che senso? In che senso, esatto In questa è la nostra domanda, spiegaci meglio Cri Mamma mia Perez si gira, tira e segna Che virata di Perez Purtroppo non abbiamo le statistiche live, le avremo alla fine dei quarti Che visione di gioco anche di Perez Perez contro Aisburso, sportellati sotto canestro Eccolo Perez si gira, subisce il fallo, canestro buono Si scherza ovviamente, vediamo ancora Perez Sempre in post basso, scarico per Crestan Dall'angolo, ha saputo segnare E lo dimostra ancora Troppo forzato, voleva rimettersi in partita Il numero 5, ancora Perez Cambia sotto le gambe Mamma mia, che prepotenza fisica Che caccia un urlo A rimbalzo il primo ad arrivarci è Perez Che corre nuovamente in contropiede Contro Tomas, lo batte col primo passo Che gestione del contatto Sbaglia però l'appoggio La cosa più facile probabilmente Allora può correre ancora Carnevale Fiducia, tira e segna questa volta Con poco spazio prende la conclusione Sbaglia, allora può correre Perez col controllo Volumina salta, San lo manda fuori i giri Corre San, non va la ripartenza Ancora Pastred, vai con Curbero Oscura la vallata Perez Top in vincente Perez ancora uno contro uno Cost to cost, segna E su Michel Palos, sicuramente il top scuro della partita Si avvicinano i 40 tentativi liberi di Stella Altro canestro di Perez Il finale di questo bellissimo match Questa bellissima sfida Perez qua, eccolo lo scarico Che veniva chiamato dalla chat Carnevale segna Un'altra tripla Maglia arancione Ancora Perez, esplorato il gioco sotto canestro Stoppata di Domana Ancora Perez Con voglia e aggressività Pag, la foul go' na люди di San. Merda, i Hallo Proic personas Pag, la chiara